Musica Oggi il luogo della nostra escursione sono le meravigliose pale di San Martino. Faremo un giro ad anello passando per due rifugi, Rosetta e il Pradidali. Il punto di partenza è San Martino di Castrozza, dove ora noi prenderemo la cabinovia Col Verde per portarci in quota. Siamo saliti sulla funivia, partiti da San Martino di Castrozza che ci porterà in quota. Musica Arrivati al capolinea della funivia, in lontananza già si può vedere il rifugio Rosetta, ma prima di dirigerci appunto verso il rifugio andiamo alla cima Rosetta, poco distante da qui. Musica Lasciata la funivia, con pochissimo dislivello abbiamo raggiunto cima Rosetta. Il panorama sarebbe magnifico, però oggi il tempo è parecchio nuvoloso. Musica Musica Dalla cima Rosetta in circa 20 minuti si raggiunge il rifugio Rosetta. Facilissimo sentiero anche in discesa. Musica Bene, lasciamo il rifugio Rosetta per dirigerci verso il rifugio Pradidali. Il sentiero che noi ora seguiremo è 707 e ci immergiamo in questo stupendo paesaggio lunare. Musica 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 Grazie a tutti. Eccoci qua al passo Pradidali Basso, a circa metà del nostro percorso. Adesso ci incamminiamo sotto questa bella aria fresca verso il rifugio Pradidali, a un'ora circa di cammino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dal rifugio Rosetta in circa due ore siamo giunti al rifugio Pradidali, un bel rifugio circondato da stupende cime. Ed ora andiamo a berci un buon caffè e ad ammirare il bellissimo panorama. La nostra pausa è giunta alla fine. Lasciamo il magnifico rifugio Pradidali e raggiungiamo il passo di Bal con il sentiero in salita. Eccoci qua al passo di Bal, al cospetto di queste fantastiche cime e adesso ci incamminiamo verso San Martino. La nostra pausa è giunta alla fine. Il tratto di sentiero attrezzato che abbiamo appena superato non è di particolari difficoltà, non serve un'attrezzatura di nessun genere, però molta attenzione. Ci rinfreschiamo con l'ultima neve rimasta. A questo bivio, se si prosegue dritti per il sentiero si ritorna al rifugio Rosetta. Noi invece imbocchiamo il sentiero 702 verso San Martino di Castrozza. Bagno? Acqua giusta per fare il bagno. Temperatura ideale. Grazie. 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 Abbiamo fatto davvero una cosa meravigliosa, immergere i piedi in quest'acqua bella ghiacciata. Fantastico. Grazie. 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 Per il tratto finale della nostra escursione ci addentriamo nel fresco del bosco. attenzione giunti a questo bivio non prendere per rifugio colverde ma seguire l'indicazione cabinovia colverde san martino di castrozza grazie a tutti